Fiera, Brodetto e Disco Diva, weekend intenso fra Pesaro, Fano e Gabice. Ad Urbino smascherato evasore fiscale di mezzo milione di euro. Abbandono di rifiuti, a Pesaro scattano le multe attraverso le telecamere. Sport, la Megabox Vallefoglia, si prepara al debutto in massima serie. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. In apertura questa sera parliamo di eventi e ci occupiamo in modo particolare del weekend molto particolare che si apre domani con la coincidenza nelle stesse date della Fiera di San Nicola, del Festival del Brodetto e di Disco Diva. Un triplo evento che caratterizza in maniera significativa la conclusione dell'estate delle città costiere di Pesaro, Fano e Gabice. Tre iniziative che, come vedremo in questo nostro primo servizio, si stanno allestendo fra obblighi di Green Pass e grande attenzione alle misure di sicurezza. Dopo un anno di assenza forzata dalla pandemia, torna domani la Fiera di San Nicola con il lungomare pesarese che si prepara ad accogliere 450 ambulanti per tre giornate e tre serate. È una ripartenza a ritmo ridotto dopo i quasi 700 stand che affollarono l'edizione 2019. I primi espositori hanno già cominciato a prendere possesso di piazzale d'annunzio dove la sosta ha cominciato ad essere vietata dalla serata di martedì. Così come Viale Trieste e Vie Perpedicolare sono disseminate di divieti di transito e sosta con rimozioni forzate a partire dalle ore 20 delle giovedì sera. A distanza di un mese da Candele sotto le stelle, la Fiera di San Nicola sarà il secondo evento aperto in cui è richiesto l'obbligo di Green Pass per i fruitori degli stand. Ci saranno infatti controlli a campione di steward e forze dell'ordine nei varchi predisposti in un lavoro in sinergia fra Comune e Pesaro Parcheggi. Il controllo sarà a campione, lo sarà sia nei varchi di accesso che all'interno della Fiera. Ovviamente chi abita nelle civili abitazioni e chi va al mare deve rispettare la legge dove lo richiama anche l'uso della mascherina. All'interno invece della Fiera l'uso della mascherina e il Green Pass ovviamente sono obbligatori. Fiera di San Nicola dal 10 al 12 settembre con le date del tradizionale evento di chiusura dell'estate pesarese che concidono curiosamente con le stesse date del brodetto fest che segna l'estate fanese nel solco del suo piatto tipico. Una diciannovesima edizione del festival che sarà inaugurata venerdì alle 18.30 al palco Cavea del Lido dando il via ad un appassionata tre giorni di gusto, approfondimenti e cooking show con grandi chef e giornalisti. Anche quest'anno avremo diversi chef stellati presenti al palavrodetto. Un momento di cultura perché ci saranno delle presentazioni di libri del mondo della gastronomia. Il primo fra tutti il momento di punta sarà quello con Marino Bartoletti, giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo e sarà a Lido di Fano il primo giorno a presentare un suo libro. Il giorno successivo ci sarà Roberta Capua, anche in questo caso personaggio molto conosciuto. Il 10-12 settembre è anche il weekend di Disco Diva che per il settimo anno accenderà i riflettori su piazza Valbruna di Gabiccemonte nel segno della Disco Music. Inaugurazione prevista con dei tagli a New Wave in forma di esclusiva per la prima volta insieme a Disco Diva Shared by Gucci. Al centro delle esibizioni live delle serate di sabato e domenica le performance di Kid Creole dei Coconuts e di Smoma. Un festival gestito dal coordinamento di Cristina Tassinari che concilierà spettacolo e sicurezza. Il tema di norme di sicurezza, ci saranno la garanzia di tutte le norme di sicurezza, quindi accesso limitato, avremo soltanto 200 posti in platea a sedere per ogni serata, l'accesso sarà possibile solo con Green Pass e quindi tutto si svolgerà come tutte le manifestazioni che abbiamo fatto quest'estate nel rispetto massimo delle norme Covid. Saranno tre serate importanti, 10, 11 e 12 di settembre per questa settima edizione di Disco Diva. Restano stabili i contagi da Covid-19 nella nostra regione Marche, attestandosi ad una percentuale di tamponi positivi dell'8,4%. Nel dettaglio sono 209 i casi nuovi registrati oggi con Macerata, che si conferma la provincia più colpita, con 61 casi. 52 invece quelli registrati nella provincia di Pesaro Urbino salgono leggermente i ricoveri con 81 pazienti ospedalizzati, uno in più di ieri, di cui 23 in terapia intensiva, due più di ieri. Chiedeva patrocini gratuiti a spese dello Stato, ma non dichiarava i redditi di un'attività imprenditoriale svolta in nero. Un quarantenne urbinate è stato denunciato dalla Guardia di Finanza dopo che dagli accertamenti è risultato essere evasore totale, con oltre mezzo milione di euro non dichiarati al fisco. L'indagine è partita dalla segnalazione del giudice di pace di Urbino, che aveva ricevuto dal soggetto in questione l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, un patrocinio che può essere riconosciuto solo se sussistono determinate condizioni di reddito e patrimonio. Troppe invece le incongruenze rilevate, che hanno fatto scattare indagini, nelle quali è addirittura emerso che nel 2017 l'urbinate risultava intestatario di ben 24 automobili poco prima che queste cessassero la circolazione in Italia. La circostanza ha generato il sospetto che l'indagato potesse svolgere in nero un'attività di commercio di autovetture usate. Raccolti tutti questi elementi, le fiamme gialle di Urbino hanno provveduto alla denuncia per evasione fiscale. Questa sera torniamo a parlare di un altro incidente dove protagonista è un centauro, un incidente stradale che è avvenuto questo pomeriggio a Monte Labate, dove attorno alle 16 è atterrata l'eliambulanza per soccorrere un motociclista che ha riportato gravi ferite in uno scontro con un'auto avvenuto in via Pantanelli. Il centauro in fase di sorpasso si è infatti scontrato con una macchina rovinando violentemente sull'asfalto. Un incidente che arriva a 24 ore da quello di ieri avvenuto a Fano, in cui ha purtroppo perso la vita il 57enne Alessandro Minardi in sella al suo scooter. Rossini TV ogni settimana dà voce a voi telespettatori che grazie al nostro numero di WhatsApp ci segnalate delle situazioni di maleducazione e inciviltà come quello dell'abbandono dei rifiuti. Un malcostume che ora il comune di Pesaro combatte, come ben sapete, con l'installazione di una videosorveglianza che ha già prodotto le prime multe ai trasgressori. Vediamo. Giro di vite sull'abbandono di rifiuti nella città di Pesaro. Un atto di inciviltà che Rossini TV testimonia ogni settimana pubblicando fotografie, video e segnalazioni di cittadini disgustati dagli ingiustificati accumuli di mondizia fuori dagli appositi cassonetti, così come regolarmente ci vengono segnalati abbandoni di rifiuti ingombranti o pericolosi. Ora il comune di Pesaro e Marche Multiservizi ricorrono ad un sistema di videosorveglianza che si sposta di quartiere in quartiere per apporre un deterrente a questo maleducato e incivile malcostume. Telecamere attivate e sono già arrivate le prime sei multe. Quattro di poco inferiori ai 70 euro e ben due da 600 euro per lo scarico irregolare di rifiuti speciali e pericolosi. Purtroppo l'abbandono dei rifiuti che avviene abbastanza di frequente ultimamente è un neo che dobbiamo assolutamente ripulire. Siccome non possiamo essere fisicamente presenti in ogni momento, in ogni luogo, abbiamo pensato che la tecnologia potesse darci una mano e aiutarci a vedere quello che da soli non possiamo fare. Sanzioni sì, ma senza imboscata. Nell'isola ecologica che può ospitare la telecamera è infatti affisso l'avviso di videosorveglianza, così come i contatti di marche e multiservizi, del centro di raccolta differenziata e del servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio. Per ora abbiamo individuato una rosa di primi punti che terremo più sott'occhio, quindi quelli che sono più attenzionati in questo momento. In ognuno di questi punti è presente un cartello in modo che il cittadino, chiunque passi lì davanti, sia informato che in quel punto potrebbe esserci una telecamera. Non è detto che ci sia, ma potrebbe esserci. Quindi se non c'è oggi sicuramente ci sarà fra qualche giorno perché le telecamere sono itineranti, non sono fisse ma si spostano. Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino e sindaco di Isola del Piano, è il nuovo presidente della conferenza dei sindaci di Area Vasta 1. È stato eletto con 32 voti contro i 12 del sindaco di Urbino Maurizio Gambini, che dunque cede la carica a Paolini. I settori dell'edilizia ed impiattistica tornano a viaggiare su livelli pre-crisi, secondo Moreno Bordoni e Fausto Baldarelli di CNA Pesaro Urbino. A dare questo forte impulso sono state soprattutto le recenti misure di defiscalizzazione previste per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Secondo l'indagine CNA, la misura più gettonata in provincia è stato il cosiddetto bonus facciate per tinteggiatura e sistemazione dei balconi, che registra il 55% sul totale degli interventi richiesti. Al secondo posto il bonus efficientamento energetico col 25% degli interventi. Al terzo posto il bonus ristrutturazione col 15% e al quarto posto il bonus edilizio, che presenta il 110% di defiscalizzazione, ma è stato richiesto da appena il 5% degli interventi. Gino Sabatini e Salvatore Giordano, presidente e vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche, hanno visitato oggi il Salone del Mobile di Milano, recandosi presso tutti e dieci gli stand delle imprese marchigiani presenti. Secondo i vertici camerali, dalla visita è emerso il quadro di un settore in ripresa, grazie a produzioni che sorprendono per l'alto grado di innovazione. Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della pista di atletica e della pedana del salto in lungo del campo scuola di via Respighi, un intervento del Comune di Pesaro dell'importo di 28 mila euro che ora consentirà agli atleti di allenarsi e gareggiare su un nuovo terreno dotato delle caratteristiche fisico-meccaniche che rendono la superficie omologabile anche per competizioni internazionali. Dal 12 al 19 settembre torna la Benelli Week, la settimana d'orgoglio degli appassionati del Leoncino che per sette giorni porteranno le loro moto in un tour nelle colline nella provincia di Pesaro, Ancona e Rimini. Una Benelli Week che quest'anno festeggia 110 anni dalla nascita dell'azienda motoristica. Ci troviamo tra le splendide moto Benelli che hanno segnato un'epoca e la tradizione del nostro territorio una tradizione motoristica che si rinnova da anni con la Benelli Week un appuntamento ormai fisso per tutti gli appassionati della Casa del Leoncino Casa del Leoncino che quest'anno vive una Benelli Week ancora più particolare perché ricorre proprio in questo 2021 il 110 anniversario dell'azienda motoristica. È iniziato nel 2011, quindi sono ben 11 anni che facciamo questo tipo di manifestazione però quest'anno l'abbiamo allungata, anzi abbiamo fatto un prologo che sarà domenica 12 dedicato alle moto storiche ma soprattutto dedicato al ricordo di un grande personaggio che è stato Paolo Prosperi. Negli ultimi anni il lavoro che è stato fatto dai soci, dai volontari del Motoclub Benelli è stato veramente molto importante, lavoro che è stato sostenuto anche a livello regionale grazie alla legge che appunto aveva l'obiettivo di promuovere la cultura e quello che era il mondo dei motori a livello regionale. Pesaro e Tavuglia ovviamente rappresentano un'eccellenza sia per quello che riguarda i piloti che ci sono stati nel corso della storia ma anche per quello che riguarda la meccanica, cioè le moto, in particolar modo la Benelli. E dunque le moto Benelli per una settimana sfileranno tra le bellezze del territorio da Urbino al Monte Nerone, al Monte Cucco, a Iesi passando anche per Salleo e il Museo del Bali. Verranno organizzati tutta una serie di percorsi itinerari lungo il territorio regionale per andare a visitare quelle che sono le eccellenze dal punto di vista culturale dal punto di vista enogastronomico e quindi come dire anche quelle che sono le eccellenze appunto tutte le cose più belle che possiamo far visitare. La settimana si andrà a chiudere a Villa Caprile in un luogo veramente fantastico dove ci sarà la festa legata ai 110 anni della Benelli e anche da lì partirà un altro motogiro che coinvolgerà tanti appassionati che fanno parte, che verranno veramente anche da fuori. Passeggiare nelle nostre strade, nei nostri territori è sempre bellissimo ma dimostra il fatto che piace anche questo format perché gli stranieri che hanno cominciato a venire qui a Pesaro nel 2011 ancora tornano, sono presenti. L'associazione che rappresento ha il compito di far conoscere queste peculiarità della nostra provincia, della nostra regione in Italia e in Europa. Stiamo lavorando molto per farlo conoscere e questi eventi chiaramente contribuiscono tantissimo alla conoscenza di questo importante settore della nostra provincia, della nostra città. Andrà in scena da domani, venerdì 10 settembre, fino a lunedì 13 l'ormai tradizionale musical delle scuole superiori pesaresi che per il secondo anno di fila si svolgerà nel cortile interno del liceo scientifico Marconi. Partiremo da tematiche più leggere come appunto la vita di classe e dell'ambito scolastico quotidiana quindi tutto quello che noi ragazzi abbiamo vissuto e che anche i più anziani e i più grandi si ricordano di aver vissuto e andremo poi anche a toccare cose molto più attuali e che sono trattate molto di più in questo periodo storico diciamo come appunto bullismo, cyberbullismo, depressione, ansia psicologica, patologica anche il tema di suicidio, stupro, quindi temi molto forti a livello sociale e molto delicati sia da trattare che da mettere in scena specialmente. Quali musical prende spunto appunto il musical di quest'anno? Allora, ci sono diverse storie che sono due musical principali il primo è High School Musical, quindi un classicone Disney che ormai più o meno conoscono tutti il secondo musical è The Revan Hansen che è un musical di Broadway di circa quattro anni fa in più ci sono due serie tv che sono entrambe di Netflix la prima è 13 e anche questa abbastanza recente di qualche anno fa e la seconda è Tiny Pretty Things in più c'è tutta la storia dietro dell'ambito extrascolastico per quanto riguarda professori, genitori quindi non solo ciò che riguardano i studenti ma anche tutto ciò che c'è dietro. L'impegno è stato tanto, soprattutto all'inizio non sapevamo bene come comportarci un po' come l'anno scorso via del covid, abbiamo iniziato la parte online per poi finalmente spostarci in presenza in palestra ci siamo divise in due gruppi più o meno da 20 l'uno e abbiamo iniziato a montare le coreografie ci siamo divisi le canzoni a metà e la coreografa ha creato appunto la coreografia e poi ce la riportava a noi, ce la insegnava e questo lavoro andava da gennaio più o meno fino alla fine di luglio abbiamo fatto le prove, abbiamo fatto un mese di pausa ad agosto e abbiamo riniziato appunto in questi giorni musical all'epoca del covid si può dire perché sono due anni che siamo qua da quando è perversa questa epidemia non potevamo, non avevamo certezze per il teatro Rossini siamo venuti qua lo scorso anno abbiamo visto le potenzialità perché questa è una corte stupenda come potete vedere e fra l'altro all'interno di una scuola quindi come valore simbolico devo dire è evidente quest'estate anche grazie a quello che si chiama il piano scuola estivo siamo potuti rimanere qua abbiamo unito questi sforzi in un unico prodotto organico e il risultato lo vedrete fra poco ma sarà comunque vado un successo perché devo dire guardate anche le scene le scene che voi vedete qua sono state realizzate tutte da loro quindi è un momento che va oltre la didattica ordinaria è un momento che rilascia a questi ragazzi delle competenze, delle conoscenze trasversali e chiudiamo con lo sport perché Rossini TV è stata presente oggi a Sant'Angelo in Lizzola dove è stata svelata la nuova maglia della Megabox Vallefoglia che si prepara con entusiasmo alla sua prima storica stagione di serie A1 femminile vediamo a tal proposito il servizio di Edoardo Razzi presentata oggi a Sant'Angelo in Lizzola la nuova maglia speciale ID della Megabox Vallefoglia una divisa che accompagnerà il precampionato della squadra di Vallefoglia e che rappresenta il territorio una maglia che avrà due colori una maglia bianca per i liberi e una maglia verde invece per le altre giocatrici in attesa del debutto in campionato che avverrà il 10 di ottobre in trasferta contro Conegliano il debutto che ci aspettavamo contro la squadra più forte del mondo sicuramente sarà un test magari improponibile per giocare una partita di pallavolo però anche andarci a giocare è già una grossa soddisfazione una grossa emozione giocare con la squadra più forte del mondo non è che capita a tutti noi quest'anno lo facciamo quindi è un merito di tutta la squadra di tutti chi ha lavorato in questo progetto e anche la mia soddisfazione se lo sarebbe mai aspettato un giorno di essere presidente di una squadra che avrebbe militato in Serie A? non nel tempo così veloce era un progetto che ambito che mi sarebbe piaciuto molto però ecco abbiamo accelerato tanto ma non sono dispiaciuto di questo perché comunque non si possono programmare più di tanto gli eventi è capitato, siamo contenti cerchiamo di mettere a punto le inefficienze che magari abbiamo avuto qualcosa nel prossimo futuro per rafforzarci e strutturarci per continuare queste stagioni nei massimi campionati l'orgoglio è un orgoglio veramente importante straordinario perché ovviamente non solo per le ragazze ma anche per Vallefoglia perché portano sulla maglia il nome della città di Vallefoglia e per noi diciamo Vallefoglia in Serie A è un messaggio importante è importante per l'economia di questo territorio di questa città ed è un messaggio anche di positività usciamo da un periodo difficile saper giocare, saper vincere e saper stare in Serie A per noi è una cosa di grande e buon auspicio la grafica della maglia la città è di recente costituzione quindi si è voluto un attimino non dare una propria identità specifica come è stato fatto nel basket di recente con Pesaro ma essendo diciamo principalmente un comune con più entità abbiamo voluto semplificare al massimo perché rischiavamo di fare tante cose quindi abbiamo giocato il nome Vallefoglia quindi Vallefoglia abbinato a quello che è il concetto di tigre che è un po' la parte grafica che identifica sempre più la squadra di pallavolo della Megavolley Siamo arrivati alla conclusione del nostro telegiornale questa sera una ricca prima serata su Rossini TV partiamo alle 21.20 con il racconto di quello che è stato un evento veramente fantastico che si è tenuto a Gabice l'Italian Gravel Trophy un evento ciclistico che ha avuto una risonanza nazionale quindi se non avete partecipato beh questa sera ve lo mostriamo interamente a seguire alle 21.40 vi riproponiamo le puntate di Generazione Silver questo programma in collaborazione con l'associazione 50 e più dedicato alla terza età ho detto davvero tutto adesso per voi il meteo vi ricordo però la nostra rassegna stampa domani mattina in diretta alle 7.20 in diretta sul canale 633 e in diretta anche sulla nostra pagina Facebook buona serata